seconda corsa premio piazza venezia un doppio chilometro ad inseguimento per i quattro anni sono in cinque che partono i 2060 metri davos dei greppi dai chiripizze divina inda diana del cerceo e di con a 20 metri invece dustin di meletro e don robin e vanno agli ordini dello starter segnale convalidato ha girato benissimo all'esterno della prima fila di con che va a condurre scavalcando diana del cerceo quindi divina inda dai chiripizze davos dei greppi e poi dal secondo nastro dustin di meletro avanti a don robin che ha avuto una piccola incertezza tutti in fila indiana per ora con dicon a scandire il ritmo su diana del cerceo divina inda dai chiripizze e tutti gli altri accenna a spostare divina inda dalla terza posizione per andare a chiedere strada dicon va deciso rene legati all'attacco del leader i 600 con partenza da fermo in meno di 44 si sta andando molto molto forte con divina inda che insiste e di forza toglie il comando a dicon e la nuova bottistrada e completa però il mezzo miglio iniziale addirittura in 58 e 2 dicon diana del cerceo dei chiripizze davos dei greppi dustin di meletro e don robin in fila indiana anche se i distacchi si sono accorciati quando si va all'attacco della penultima curva muove dalla coda del gruppo don robin non trova posizione da dustin di meletro e da davos dei greppi ma la trova da dai chiripizze che allarga dalla quarta posizione in corda quando mancano ormai 750 metri all'arrivo dai chiripizze che avanza di slancio e va al salchi di dicon avendo in scia don robin c'è dicon che anticipa però dai chiripizze e si riporta su divina inda per liquidarla in breve dicono che torna al comando quando mancano poco più di 500 metri al traguardo avendo anticipato le mosse di dai chiripizze che in scia don robin si muove soltanto adesso invece dustin di meletro dai chiripizze che va all'attacco di dicono e sembra viaggiare facile nelle mani di alessandro gocciadoro poi don robin che affianca divina inda dal sin di meletro in terza ruota la retta d'arrivo con dai chiripizze che tende a passare su dicono poi c'è don robin poi c'è dustin di meletro è passata chiaramente dai chiripizze nei confronti dustin di meletro che scatta centropista ancora più in fuori sta finendo molto forte davos dei greppi davos dei greppi che si lancia all'inseguimento di dei chiripizze che però è ancora nettissimo vantaggio dai chiripizze alessandro gocciadoro che vincono davanti a davos dei greppi e dustin di meletro al terzo posto 2 1 6 l'arrivo ufficioso della seconda di capannelle io 2 28 e 2 per gli ultimi 2000 metri quindi dai chiripizze davos dei greppi davanti e hanno fatto poco più di 1 e 14 con la vittoria della femmina di alessandro gocciadoro i colori di johnny pizzolato per la figlia di gambling b che vedete vince netto dopo aver liquidato dico finisce fortissimo dopo gara di estrema attesa davos dei greppi ed è secondo davanti a dustin di meletro è tutto lì nello studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti